L'incidente mortale questa mattina, mercoledì 9 maggio, intorno alle 7 in Corso Novara, Angoro Corso Palermo. A pare dare alla vita uno scooterista, secondo la prima ricostruzione, pare con uno scooter Honda, stesse percorrendo la carreggiata centrale di Corso Novara in direzione Piazza Crispi. All'incrocio semaforizzato di concorso a Palermo si è entrato in collisione con un autocarro Ipeco Deidi, che stava percorrendo il corso in direzione opposta. E pare abbia svoltato a sinistra su Corso Palermo in direzione al Corso Giulio. Sul posto le agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della Polizia Municipale di Torino per i ridevi del caso. Grazie mille! Grazie mille!